ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale e bentornati in un nuovo video allora ho pensato di strutturare questo video su tre suoni simili ma differenti non so ancora se il video verrà inserito nei video triggerosi o se verrà inserito in qualche altra tipologia ma questo non è importante diciamo che i suoni che sono andata a scegliere per questa sera sono dei suoni non so come definire a zig zag potrebbe essere un termine appropriato quindi ho scelto tre oggetti per produrre tre suoni a zig zag 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 non so voi come definireste questo tipo di suoni ok io li ti fisco a zig zag zag Grazie. Tra l'altro è Work in Progress una copertura che sto facendo a casa per quanto utilizzo il microfono in questa maniera perché altrimenti lo uso sempre troppo poco perché ho paura di soffiarci dentro. Grazie. Grazie. L'altro oggetto è un suono zigzag un pochino più finito. Questo ricorda quasi il suono di una zigzag. Grazie. 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 Mi stupisce sempre la varietà di suoni che si riescono a produrre con un oggetto solo. È stupendo. L'ultimo suono che voglio proporvi in questo breve video è il più zigzag di tutti ed è questo. Come vedete la trama sul cartone è proprio a zigzag ed è da questo che è partita l'idea per il video. Grazie. Questo è l'involucro di una bottiglia di vino. Serviva per proteggere la raspumante in realtà. Sono rimasto uglie di cose di Natale. Immaginatevi. l'involucro di una abbiglia. Oıllarca. In ogniense dei. Vedi questo tipo diандutors in realtà sarà più facilmente da prima. In ogni versione. Siamo attenzione. Oh. Spквanz recently cercandone勝大的 ammure. Grazie a tutti. Vi garantisco che io adoro. Grazie a tutti. 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 La carta è uno di quei materiali che mi stupisce sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.